Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo. Diamo insieme uno sguardo al tempo previsto in Europa per la giornata di domenica. Neve nel nord-est del contesto europeo, invece come vedete alle basse latitudini mediterranee e soprattutto nella parte occidentale, penisola iberica, Italia, Balcani, la situazione è diversa con tanto sole grazie all'alta pressione. Infatti nel particolare della nostra penisola sarà una giornata buona da nord a sud. Solo qualche fenomeno ancora al sud-est della Sicilia e come vedete qualche nebbia in Valpadane e nelle valli interne del centro. Allora concentriamoci proprio dettaglio per dettaglio partendo dal nord Italia. Cieli sereni o poco nuvolosi, praticamente ovunque la presenza delle nebbie in Valpadane alla notte e al primo mattino che ormai sono una costante di queste giornate anche dal punto di vista termico piuttosto gradevoli soprattutto sull'arco alpino. E ora vediamo il centro Italia. Anche qui si conferma grazie all'alta pressione il sole, qualche annuvolamento blando in transito di poco conto. E infine al sud, come vi anticipavo, a parte sulla Sicilia sud-orientale qualche annuvolamento e qualche residuo a pioggia, come vedete la situazione è buona anche in tutto il meridione e sul resto delle isole maggiori. Per il momento è tutto, aggiornamenti sulla nuova app di Trebbi Meteo.